Il Premier lascia, sia questa la notizia che scuote in maniera positiva o negativa l'Italia. Come detto il Presidente del Consiglio abbandonerà il suo incarico, dimettendosi. Prima però dovrà essere approvata la legge di stabilità all'interno della quale troveranno spazio le misure richieste dall'Europa. Premesso questo sentiamo le prime impressioni degli altoatesini. Non ho parole sufficienti per giustificare questa dimissione. Speriamo in un futuro migliore. Ma penso che, speriamo che qualcuno vada su, qualcuno di decente finalmente. E lei signora? Uguale, uguale. Lei è contenta che si sia dimesso? Eh sì, 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 molto poi. Non ci sono rispondere, io so solo che sono tutti ladri e basta. Quindi non cambia niente? Non cambia niente, sono tutti uguali. Grazie. E' vero? Prendono solo i suoi interessi. Pi, 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 quattro chiacchiere, quattro moa se prendono in giro la gente. Che è l'ora? Lei è contento? Sì, sì. Chi potrebbe andare al posto suo? Ah, chi? Mi potrebbe che vada via lui. Va bene tutto. Ah, non me ne frega niente. E' contento? Sì, sono completamente indifferente. Indifferente. Completamente. Mi vergogno di essere italiano.